Salve mister, un 2-0 contro la capolista che vi rilancia sicuramente all'inseguimento. Sì, è stata una partita sofferta, molto sofferta, loro sono veramente bravissimi e credo che sono già stati forti così, immagino se avessero avuto quei due o tre giocatori che avevano fuori oggi. Quindi sono veramente, secondo me, la squadra più forte che c'è in questo campionato e oggi l'hanno dimostrato. Noi siamo stati bravi, siamo stati compatti, ci siamo difesi bene, viviamo di ripartenze, viviamo di individualità importanti e anche oggi abbiamo fatto benissimo. Cinico soprattutto nello sfruttare gli errori dell'Unione Susa in uscita, insomma. Sì, siamo stati bravi a sfruttare i loro errori e poi abbiamo avuto delle prodezze individuali importanti oltre a una grandissima, secondo me, organizzazione di gioco in fase difensiva. Menzione d'onore del cappello oggi mostruoso. Cappello, cappello sì. È importante avere un numero uno come lui? Importantissimo, ma non solo lui, perché comunque, secondo me, una squadra che prende 5 gol in tutte queste partite non dipende solo dal portiere, ma secondo me dipende dal primo giocatore che attacca all'ultimo che difende. Poi è chiaro, se hai delle individualità è ancora più facile, no? Complimenti, mister, grazie. Grazie, grazie.